Coronavirus, messaggio del Presidente della Repubblica alla Nazione, il Capo dello Stato invita la responsabilità, il momento richiede coinvolgimento, condivisione e unità di intenti. Informarsi solo attraverso i canali ufficiali, non contribuire a diffondere notizie infondate che generano un alarmismo e inutile preoccupazione, non serve a nessuno l'appello delle istituzioni. 30. I volontari disponibili per il trasporto dei casi sospetti da Coronavirus ad Altiguglio a Genova sono i militi della Croce Rossa e delle pubbliche assistenze. Poche persone in strada, serande abbassate e rischi per le attività sono i problemi causati dall'epidemia di Coronavirus, i sindacati chiedono il ripristino della Cassa Inderoga. Un sostegno per famiglie e imprese, dal 16 marzo si potrà fare domanda per il contributo per le famiglie in difficoltà nel periodo di sospensione scolastica per le imprese, stanziati 7 milioni e 200 mila Euro. Interveniamo per aiutare i produttori, lo scrive Regione Liguria in una lettera inviata al Governo, i settori agricolo e vitivinicolo sono in forte sofferenza anche nel Levante. Intanto scuole chiuse in Italia fino al 15 marzo, la decisione ufficializzata dal Governo per ragioni di sicurezza. Lezioni in videoconferenza, liceo Genelli di Chiavari garantito l'orario completo, superate alcune difficoltà di ordine organizzativo, gli studenti dalle 7.50 si sono collegati tramite PC. Seguire le norme di prevenzione igienica ed evitare i luoghi affollati non significa per forza chiudersi in casa, la Regione invita gli anziani a curare la salute senza rinunciare ai propri interessi. Anche le amministrazioni locali impegnate per garantire piccoli aiuti soprattutto alle persone anziane, con rapallo anche se si levante in Chiavari attivi per la consegna della spesa e per lo smaltimento dei rifiuti a domicilio. Sospese le attività di urne semi-residenziali e quelle sportive non riabilitative al centro acquarone di Chiavari, allo studio la possibilità di aiuto al domicilio per le persone con bisogni specifici. Un saluto a tutti e bentrovati all'appuntamento con il Tg Guardando la settimana. Un formato speciale vista la situazione particolare in cui il Paese e anche il nostro territorio sta attraversando. Parleremo di coronavirus nei diversi aspetti che hanno caratterizzato comunque questi ultimi sette giorni lasciando da parte il conto numerico dei contagiati e delle persone in sorveglianza attiva, dati che cambiano di ora in ora, approfondiremo alcuni aspetti. Il primo che andiamo a trattare è quello sociale e collettivo. Partiremo proprio dal messaggio del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica che ha diffuso per invitare tutta la nazione ad un momento di coinvolgimento, condivisione e unità di intenti. Sentiremo proprio le parole di Mattarella. E poi l'appello che arriva dall'istituzione è quello di informarsi attraverso i canali ufficiali, non dare seguito a ipotesi o notizie non fondate che generano solo allarmismo e inutile preoccupazione. E poi affronteremo il caso dei trasporti sanitari per le persone sospette da coronavirus, è in campo, in questo caso il mondo del volontariato con le pubbliche assistenze e la croce rossa. Vediamo i primi servizi di questa edizione. Cari concittadini e cari concittadini, l'Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente, con piena trasparenza e con completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione. L'insidia di un virus nuovo, che sta colpendo via via tanti paesi del mondo, provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità. Ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti. Siamo un grande paese moderno. Abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale, che sta operando con efficacia e con la generosa benegazione del suo personale a tutti i livelli professionali. Supereremo la condizione di questi giorni, anche attraverso la necessaria adozione di misure straordinarie per sostenere l'opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni. Misure per l'immissione di nuovo personale da affiancar loro e per assicurare l'effettiva disponibilità di attrezzature e di materiali, verificandola in tutte le sedi ospedaliere. Il governo, cui la Costituzione affide il compito e gli strumenti per decidere, ha stabilito ieri una serie di indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore. Sono semplici ma importanti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio. Desidero invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni, anche se possono modificare temporaneamente qualche nostra abitudine di vita. Rispettando quei criteri di comportamento, ciascuno di noi contribuirà concretamente a superare questa emergenza. Lo stanno facendo con grande serietà i nostri concittadini delle cosiddette zone rosse. Li ringrazio per il modo con cui stanno affrontando i sacrifici cui sono sottoposti. Desidero esprimere sincera vicinanza alle persone ammalate. E grande solidarietà ai familiari delle vittime. Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell'impegno per sconfiggere il virus, nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione. Alla cabina di regia, costituita dal Governo, spetta assumere in maniera univoca le necessarie decisioni, in collaborazione con le Regioni, coordinando le varie competenze e responsabilità. Vanno quindi evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento. Cari concittadini e cari concittadini, senza imprudenze, ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo avere fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Dobbiamo e possiamo avere fiducia nell'Italia. Evitiamo di creare ulteriore panico, stiamo monitorando la situazione, stiamo facendo il possibile e anche una forma di rispetto verso tutti coloro che quotidianamente rischiano anche la propria salute per cercare di debellare questo virus. Operatori ecologici di una ditta specializzata che nel rispetto di una direttiva regionale specifica stanno ritirando al domicilio di una famiglia sottoposta a isolamento fiduciario ormai da quasi due settimane la spazzatura. Nessun complotto, né tantomeno notizie che vengono nascoste dalle autorità. Il video, girato e diffuso irresponsabilmente nella giornata di ieri su alcune chat di WhatsApp in cui si vedono tre operatori vestiti con tuta e mascherina entrare in un portone di un palazzo, ha ripreso semplicemente quello che avviene ormai da una decina di giorni a Chiavari come in tutto il territorio della ASD4, dove ad oggi i casi di persone ristrette al proprio domicilio sono 42. Il comune si è attivato e ha incaricato una ditta specializzata che ritira a domicilio questi rifiuti che vengono trattati come speciali. Quindi il loro abbigliamento era dovuto comunque a un protocollo che viene seguito in questi casi ed è valido per tutto il territorio regionale. Esatto, vale per tutto il territorio regionale. È una direttiva che ci è stata emanata dalla vice dirigente dottoressa Brescianini della regione Liguria. Per molte delle persone sottoposte alla quarantena, non perché ammalate, ma perché provenienti dalle zone rosse della Lombardia e del Veneto o rientrate ultimamente dalla Cina, il periodo sta ormai volgendo al termine. A breve potranno tornare alla vita di tutti i giorni. Responsabilmente si sono adeguate alle disposizioni prese per porre un'argine alla diffusione del coronavirus e lo hanno fatto per tutelare la comunità. La domanda che sorge adesso invece è quanto un video o una notizia non veritiera e comunque non verificata fatta circolare irresponsabilmente, se quello di Chiavari è solo un esempio lampante, sia servita alla comunità e al bene comune. Riflessione che vale sia per chi ha girato il video, sia per chi ha contribuito a diffonderlo. I social, le chat di WhatsApp sono molto utili se vengono usate con criteri. In questi casi la diffusione di notizie false crea allarmismo. Siamo evidenti che la situazione è una situazione non facile, è una situazione che riguarda tutto il mondo, riguarda il nostro paese e stiamo facendo tutto il possibile. Sicuramente ci sono più motivazioni che ti spingono a farlo e comunque essere pronti ad aiutare gli altri come sempre. È nei momenti di emergenza che viene fuori il valore del volontariato, che c'è sempre, intendiamoci, anche quando i riflettori sono spenti, quando serve la fedeltà dell'ordinario. Ora i riflettori sono accesi sui numeri, quelli dei contagiati da coronavirus, quelli dei pazienti ospedalizzati. Dietro ad ogni numero però c'è una storia, quella del paziente, dei suoi familiari, della prensione e dell'isolamento. E quella di chi ha preso in carico quel paziente, lo ha rassicurato magari da semplice volontario. Sono i militi della Croce Rossa del territorio del Tigullio che hanno risposto all'appello e si sono organizzati in una squadra di 30 persone dalle varie sedi del comprensorio, da Riva Trigoso a Chiavari, da Cogorno a Cicagna, disponibili 24 ore al giorno con un mezzo dedicato per il trasporto di pazienti con sospetto coronavirus. Noi riceviamo una chiamata dalla centrale operativa 118 Tigullio Soccorso di Lavagna che ci manda direttamente sul territorio. Entriamo in casa delle persone con tutti i dispositivi di protezione individuale che ci sono stati assegnati e lo portiamo direttamente a San Martino al padiglione delle malattie infettive seguiti dal 118 Tigullio Soccorso con lo staff dell'automedica. La squadra adeguatamente formata copre tutto il territorio che va da Deiva Marina al Golfo Paradiso comprese le valli fino al confine con l'Emilia. Dobbiamo indossare calzari, una tuta che viene fornita dalla centrale 118, una cuffia protettiva, occhiali, visore, mascherina con facciale filtrante FFP3. Viene seguito un protocollo dettagliato che prevede la sanificazione finale del mezzo che è un veicolo dotato dei dispositivi necessari. Noi sanifichiamo il vano sanitario e il vano dove i militi sono stati quindi il vano guida. Il nostro mezzo, nello specifico, qua nella realtà di Cogorno ha già un impianto interno di sanificazione che funziona durante tutto il trasporto delle persone potenzialmente infette o infette. C'è stata un'unione tra le Croci Rosse e altre pubbliche assistenze del Tigullio tali da poter potenziare il servizio. Quindi nella nostra realtà di Cogorno, oltre ai nostri volontari attivi, ruotano un'altra trentina almeno di persone che fanno Croce Rossa e fanno unione in questo momento. Essendo un momento così di bisogno, si cerca di aiutarsi uno con l'altro, appunto anche dando sostegno alle consorelle e venendo ad aiutare anche da altri comitati perché comunque ci sembra giusto così anche da volontari. Altro aspetto, altro capitolo della situazione contingente coronavirus è quello dell'economia. Tanti settori in difficoltà, un paese che sta rallentando a seguito anche delle decisioni del governo di interrompere e limitare alcune attività, in primis la scuola, di questo ne parleremo poi successivamente, vengono prese, sono state prese da parte dell'istituzione alcuni provvedimenti per sostenere imprese e anche famiglie che si trovano in difficoltà. Parleremo dunque della situazione che si sta verificando sul nostro territorio per quanto riguarda le attività commerciali e produttive. Parleremo del bando della Regione che appunto dà finanziamenti per imprese e famiglie e un altro settore colpito è quello agricolo, vitivinicolo e anche in questo caso sentiremo gli esperti del settore. Vediamo i servizi. 17.000 camere cancellate in una settimana negli alberghi del Levante, numeri allarmanti messi sul tavolo da Aldo Verdin, presidente territoriale del settore. Cancellazioni e mancate prenotazioni arrivano fino a giugno. Oltre alla disdetta di camere, quindi di notti, c'è già stata la disdetta di eventi. Eventi programmati anche su maggio per più giorni che riempivano alcuni alberghi nostri associati sono già stati disdetti. E quindi se ci sono degli aiuti, come devono esserci degli aiuti, come sgravi fiscali e quant'altro possibile ottenere, devono essere distribuiti su tutta la Liguria. Non è possibile pensare che Savona sì e Tiguglio no, perché Tiguglio in questo momento non ha nessun caso. La situazione è esattamente la stessa. Il turismo soffre nell'immediato. Altre categorie conosceranno le reali perdite a bilancio tra qualche tempo. Per una piccola ditta, il pericolo più grosso arriva da una possibile quarantena per la presenza di un eventuale caso positivo, cosa che in pochissimo tempo porterebbe alla chiusura. So di molte attività che chiuderanno per ferie in questo periodo, probabilmente cercando di convergere un po' tutte quelle che sono le forze e i permessi ferie dei dipendenti. Naturalmente le imprese per una settimana, dieci giorni, probabilmente riescono a reggere. Oltre le due settimane comincia a diventare veramente una situazione drammatica. La Regione è scesa in campo per tutelare i lavoratori e chiede al Governo, in primis, di attivare tutte le possibili forme di ammortizzatori sociali. Dopo tre governi che non hanno mai concesso la cassa inderoga, sia arrivato il momento di superare quello che tutti combattevamo. Cioè, spero che sia il momento in oggi di concedere la cassa inderoga perché di quello ha bisogno il sistema paese, il turismo, ma non solo. Un'urgenza su cui anche i sindacati, ieri sera in diretta a TV su Telepace, hanno espresso giudizio favorevole. Insisterei in cassa inderoga in tutti i settori, a prescindere dal numero di operatori. Come abbiamo fatto in presidenza e in altre occasioni. L'assessore lo sa. Concordo con lei. Aiuti a famiglie e imprese. La Giunta regionale Ligure ha assunto due decisioni nelle ultime ore. La prima, un contributo per il sostegno nell'accudimento dei figli durante il periodo di sospensione scolastica, in totale 800.000 euro. Secondo i calcoli degli uffici regionali, ne potranno beneficiare circa 2.000 famiglie Liguri. Si tratta di un voucher, una tantum, di due importi, a seconda della fascia di reddito. Il primo da 500 euro, destinato ai nuclei familiari con un ISEE minore di 20.000 euro, e il secondo da 300 euro per quelle famiglie con ISEE compreso fra 20 e 50.000 euro. Il voucher può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e non è necessaria la rendicontazione. Le risorse verranno erogate fino ad esaurimento del plafond e nel caso di eventuali rifinanziamenti verrà utilizzata la graduatoria in ordine di ISEE crescente. Il bando sarà disponibile sul sito di FILS già dalla settimana prossima. Aprirà il 16 marzo per chiudersi dopo un mese, ossia il 16 di aprile. Restano sul tavolo le proposte del governatore Toti al governo, l'allungamento del congedo parentale, gli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle scuole che verranno penalizzati, un fondo di rotazione per le imprese. Proprio per le attività produttive, la regione ha stanziato 7.200.000 euro. Il contessuto per la grande parte è fatto di piccole aziende, di piccole realtà e hanno subito sofferto dei problemi di cassa dovuti comunque a una contrazione dei consumi, una contrazione anche del movimento delle persone. Quindi complessivamente abbiamo stanziato 7.200.000 euro, alcuni sono dedicati a settori tipo la cultura, lo sport e anche il commercio ambulante che presuppongono un muoversi delle persone, cosa che si è un po' rallentata. E poi una parte significativa verrà articolata in leva finanziaria con le banche, quindi speriamo di arrivare ben oltre i 5 milioni e mezzo che rimangono per tutto il mondo del turismo, del commercio e dell'artigianato che ha bisogno veramente in questa fase di una prima aspirina e poi aspetteremo col governo di avere cose molto più significative. Dai campi agli scaffali alla ristorazione, l'intera filiera agroalimentare soffre le conseguenze dell'epidemia di coronavirus. Il vitivinicolo ligure registra un primo calo delle ordinazioni da parte di alberghi, ristoranti e bar, in questo periodo poco frequentati. Un danno importante, commenta Coldiretti, perché la viticoltura rappresenta un settore vitale dell'economia regionale, coinvolto anche il Levante Ligure. Le disdette che riguardano anche gli agriturismi, è così? È il settore che ci preoccupa di più, anche perché ci sono state disdette sia a medio che a lungo termine, oltre che quelle a breve. Avete dei numeri per caso? Li state raccogliendo? Li stiamo raccogliendo, però si parla veramente di disdette a livello completo a aziende che non lavorano più. E poi c'è l'altro aspetto, quello naturalmente anche dell'agroalimentare, immaginiamo, quello del mercato, dei prodotti che arrivano proprio dai campi. Chiaro, perché andando in crisi il settore della ristorazione, vanno in crisi tutti quei consumi primari di beni, come possono essere adottati, formaggio, vini, carne, beni primari di qualsiasi tipo. L'associazione chiede misure di emergenza, come lo sgravio contributivo, la cassa integrazione in deroga, rapporti agevolati con le banche, ma anche di restaurare un clima di fiducia. Le speculazioni, infatti, danneggiano aziende e famiglie. È diffusa l'idea, ad esempio, che i prodotti agricoli trasmettono il virus. È un fatto molto grave, tuona l'assessore regionale Mai. Piante e frutti, hanno chiarito gli esperti, non trasmettono il coronavirus. E l'agricoltura ligure, conclude Mai, è tra le migliori al mondo. Siamo così al capitolo scuola, chiuse dunque, almeno fino al 15 di marzo, in tutta Italia le attività scolastiche. Ci sono problemi per quanto riguarda i lavoratori di questo settore, tutto l'indotto legato al mondo dell'istruzione, ma anche alcuni casi di istituti che garantiscono comunque un'attività didattica online, attraverso videoconferenze e quant'altro. Tanti istituti che lo stanno facendo, si stanno muovendo, proprio in questo senso siamo andati a vedere anche il caso dell'istituto del Gianelli Campus, dell'istituto del liceo sportivo di Chiavari. Vediamo i servizi. Nel caso di un altro agente, non è più più caldo da un agente da un agente. Come vi siete attrezzati a fronte della seconda settimana consecutiva di stop della didattica? Noi già la settimana scorsa avevamo capito che poteva essere messa in atto questa seconda settimana di stop e ragionevolmente abbiamo valutato cosa poter fare per sostenere i ragazzi anche a distanza. Abbiamo chiesto aiuto naturalmente al villaggio e ai sistemisti del villaggio perché ci consigliassero come poter partire e abbiamo stabilito che, avendo già in uso la piattaforma di Google Suite, quella poteva essere la base su cui riuscire ad attivare della didattica a distanza attraverso le videoconferenze. Lunedì mattina abbiamo fatto una riunione con tutti i docenti qui a scuola e abbiamo fatto un minimo di formazione con la presenza della sistemista proprio per la pieno utilizzo. Ha funzionato, ci sono state alcune difficoltà oggettive nel campo scientifico perché lì è necessario avere delle tavolette grafiche o comunque delle tablet con le pennine a punta sottile che ci consentano naturalmente di poter scrivere e interagire direttamente come una lavagna con gli studenti. Questa mattina direi che siamo al top e sta funzionando tutto bene. I ragazzi stanno rispondendo bene? Sì, i ragazzi sì, assolutamente. Naturalmente ieri erano un numero ridotto, questa mattina c'è una buona presenza e poi hanno capito anche loro questa esigenza. Naturalmente con maggiore o minore partecipazione e responsabilità a seconda della fascia d'età. Io ho fatto queste già esperienze negli anni passati ed è lì che ho un po' gettato questa ipotesi la settimana scorsa con i ragazzi che avevano problemi di frequenza scolastica. Quindi ecco perché ho cercato la settimana scorsa di incentivare e partire perché comunque questo è il futuro che non è solo un futuro legato a questa situazione così grave ma è un futuro che consente veramente di lavorare con i ragazzi con questa nuova modalità anche in tempi di normalità. Con la chiusura delle scuole ci sono alcuni criteri di lavoratori che sono penalizzati perché rimangono senza retribuzione. Quali sono? È tutto il settore del socioeducativo privato il quale mediante le cooperative sociali ha in gestione grandissima parte dei servizi educativi dei comuni. Si occupano di disabili, si occupano di insegnamento e di sostegno, si occupano di servizi, ovvero mense, pulizie. Abbiamo a che fare con un fenomeno che riguarda circa 200-300 persone in Tigulio. Tali i lavoratori risultano essere sostanzialmente invisibili e al netto della chiusura dei plessi scolastici stiamo arrivando a circa 15-20 giorni di mancanza di stipendio. Quando dico mancanza di stipendio dico mancanza di stipendio, cioè gli manca proprio lo stipendio mensile. Naturalmente bisogna trovare gli ammortizzatori sociali necessari per ovviare a questa situazione. Ammortizzatori sociali in deroga, ma vanno assolutamente trovati. Voi chiedete l'intervento di chi e in che misura? Abbiamo già avviato delle richieste d'incontro e abbiamo già individuato alcune date per delle richieste d'incontro con le amministrazioni pubbliche e con le istituzioni, anche in concorso con le centrali cooperative che gestiscono le imprese, perché il problema è veramente sempre più ampio e il fronte delle problematiche è sempre più stringente. State lavorando nel senso che ci fossero altri giorni di sospensione delle elezioni o anche comunque per recuperare questi giorni di sospensione? Stiamo lavorando per recuperare questi giorni di sospensione e purtroppo, come è noto, abbiamo un futuro davanti piuttosto incerto perché non sappiamo come andrà a finire da qui a un mese. Concludiamo questa nostra rassegna dei diversi settori colpiti dalla situazione coronavirus focalizzandoci sul comparto degli anziani, la categoria più soggetta a rischio in questa epidemia di questo virus. Alcuni consigli arrivano dalla regione, quello di non interrompere comunque l'attività sociale ma puntare sulla prevenzione e le norme igieniche che garantiscono comunque un buono stato di salute e vedremo anche come le amministrazioni locali e comuni si fanno prossimi alle persone in difficoltà con servizi come la spesa a domicilio o il ritiro della spazzatura presso il proprio domicilio. Sono stati attivati i propri servizi in questa direzione e siamo andati a vedere anche come si è adeguato le nuove disposizioni ministeriali, il centro Benedetto Acquarone che accoglie sia anziani del territorio ma cura anche attività sportive e per disabili e sentiremo proprio il direttore. Vediamo i servizi. Evitare i luoghi affollati e seguire le norme igieniche per mitigare il rischio di contagio senza necessariamente chiudersi in casa per settimane. La regione ha diffuso un vademecum con alcune indicazioni per i numerosi anziani che vivono sul territorio. Vi sono enunciate alcune pratiche per mantenere vivi gli interessi, preservare la salute fisica e mentale, per tutelarsi dal contagio del coronavirus senza cadere nell'alienazione. Mantenere vivi gli interessi, soprattutto esercitando la mente, le letture. Il miglior sistema di difesa sta dentro di noi e si chiama sistema immunitario e quindi bisogna tenersi in forma alimentandosi in maniera adeguata e variando i cibi, prediligendo una dieta leggera, ricca di ortaggi. E ricordare anche che la vita all'aria aperta non è che costituisce di per sé un pericolo se si mettono in atto le misure di igiene raccomandate. Pertanto se non si hanno patologie croniche o con multimorbilità, una passeggiata in una bella giornata di sole prediligendo spazi aperti, verdi e non affollati comunque è qualcosa di positivo. Ovviamente da evitare se ci sono condizioni meteo particolarmente avverse. In quel caso si deve assolutamente rimanere in casa ma anche qui non si deve trascolare l'attività fisica. Si può fare un'attività fisica anche stando in casa. Sono regole di buonsenso però era un'attenzione particolare che volevamo dare a tante persone che stanno bene, che hanno una certa età e che devono mantenersi tali. Ecco, quindi l'aspetto psicologico anche questo ha la sua importanza. Intanto alcuni comuni del Tigulio si stanno dotando di servizi di assistenza. A Chiavari sarà attivata la spesa a domicilio per gli over 65 con familiari che non possono provvedere loro con la proposta di estenderla poi anche all'ambito dei comuni limitrofi. Già attivata da Pallo un servizio simile per gli ultra 75 anni senza parenti stretti sul territorio. Per entrambi i servizi sono le persone interessate che devono fare direttamente richiesta agli uffici comunali. Ho dato mandato alla dirigente dei servizi sociali, all'assessore della sanità e all'assessore dei servizi sociali di fornire un servizio per la durata di 30 giorni alle persone ultra 65 anni residenti nel comune di Chiavari per portare la spesa. Naturalmente non chiediamo reddito di queste persone ma lo facciamo solo per coloro che hanno familiari che lavorano, che sono fuori Chiavari ed è una proposta che faremo a livello d'ambito per vedere se gli altri comuni sono disposti a fare questo servizio. Noi comunque lo faremo sicuramente per i residenti del comune di Chiavari, ultra 65 anni, per far sì che loro stiano a casa e non abbiano parenti che possano dare assistenza per fornire la spesa quotidiana. Come funzionerà il servizio? Bisogna specificare che il comune non chiamerà queste persone ma sono le persone ultra 65 anni che segnaleranno la loro situazione al comune di Chiavari. Il comune valuterà tramite un colloquio la situazione familiare, ripeto, non reddituale, ma di parenti che possono dare assistenza e sulla base di quello erogheremo questo servizio per la durata di 30 giorni. Per cui stiamo attenti alle truffe, non verrete contattati da personale del comune di Chiavari che verrà a domicilio. La categoria più fragile custodita al Centro Planeta Cuarone sono gli anziani. Come è cambiata la loro vita? Allora, intanto abbiamo provveduto a separare in una maniera determinata le attività degli anziani accolti in trattamento residenziale, quelli che vivono la Cuarone, dalle attività che invece venivano svolte dal centro di urno degli anziani. Lo stesso discorso è stato fatto sulla disabilità, separazione tra le attività residenziali e le attività di urne. La vita dei nostri ospiti chiaramente ha dovuto sopportare qualche limitazione. Come è noto, è stata emessa un'ordinanza da parte del Presidente della Regione Liguria e una successiva interpretazione da parte di Alisa in merito agli accessi dei visitatori. Sono state limitate le visite agli ospiti. È compito della Direzione Sanitaria dare delle regole, delle deroghe rispetto a queste limitazioni solo ed esclusivamente laddove il familiare viene a prestare un'attività di assistenza. L'ordinanza di Alisa oggi parla di sospensione delle visite di conforto. Per quanto riguarda le strutture sportive alla Corone cosa resta aperto e cosa viene chiusa? Sono chiuse tutte le attività sportive con un'eccezione fatta per i campi da padel perché i campi da padel vedono un'attività all'aperto e si gioca soltanto due contro due e non c'è quindi questa dimensione di contatto. Lo preciso, rimane l'attività ma vengono chiusi gli spogliatoi per evitare complicazioni rispetto alla sanificazione. Questo per dare il massimo livello di sicurezza. Il cambiamento sulla piscina è stato significativo. Oggi in piscina garantiamo soltanto i trattamenti riabilitativi quindi il funzionamento come attività ambulatoriale. Quello che era l'attività della scuola di nuoto dei bambini il fitness delle persone tutto questo è stato sospeso. È tutto per questa edizione del TG Guardando la settimana. L'appuntamento ritorna tra sette giorni con altri approfondimenti e altre notizie. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata e buona settimana. Grazie per aver guardato il nostro canale.